Ciao amici di Golpo d'Occhio, io sono Maria, siamo ritornati con i nostri servizi e le nostre rubriche. Ci aspettavate, vero? La nostra prima rubrica sarà Occhio al tifoso, voi già sapete di cosa si tratta. Andremo un po' per le strade, per le attività commerciali, per capire le opinioni del pubblico per quanto riguarda il campionato italiano, ma soprattutto del nostro amato Napoli. Poi non mancherà la seconda rubrica, Botta e risposta, dove i sindaci risponderanno alle domande dei loro cittadini. Ci saranno anche nuove rubriche per quanto riguarda la musica, la moda e tante altre che non voglio svelare. Vi lascio alla vostra curiosità. Allora amici di Golpo d'Occhio, io vi aspetto settimana prossima per parlare del Napoli, quindi nella nostra rubrica Occhio al tifoso. Vi aspetto e preparatevi, vi intervisterò. Amici di Golpo d'Occhio, ora mi gusto un bel caffè. Buono buono, mi trovo alla caffetteria L'Esettuale in via della Resistenza Calvizzano. Il bar vi aspetta ogni mattina fino alle 10 con un'ottima offerta, 1,20 euro, caffè e cornetto, quindi un cornetto buonissimo. Io l'ho assaggiato perché sono sempre a dieta. Per qualsiasi vostro evento potete chiamare l'animazione di Planner Music Event. I nostri servizi sono tanti, sono vari. Animazione, spettacoli vari, volata di palloncini, carrettini vari, consegne con mascotte, foto, video, noleggio impianto, strip tease, DJ, speaker, cantanti, di tutto e di più. Chiamate la Planet Music Event. E se chiamate dicendo che siete amici di Golpo d'Occhio avrete un ulteriore sconto. Ciao! Saluto tutti gli amici di Golpo d'Occhio. Allora amici di Golpo d'Occhio alla settimana prossima, vi aspetto. Ciao!